Una settimana di silenzio, poco più, poi la replica dettagliata nei passaggi, molto depurata da valutazioni di ordine politico, anche se tra le righe qualcosa traspare. Il tutto per rimettere al centro la vicenda lunga 30 anni del cosiddetto debito Flaiani. L'amministrazione cumulata di Martinsicuro, guidata dal sindaco Paolo Camiglione, ha diffuso una nota relativamente alla questione del contenzioso Flaiani, ormai acclarato alla luce dell'ultimo pronunciamento della Cassazione e la definizione delle somme da parte della Corte d'Appello. Puntualizzazioni che seguono la recente conferenza stampa di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che ha ricostruito a sua volta la vicenda con la presenza dell'avvocato Stefano Flaiani. Possiamo tranquillamente affermare che chi preannunciava scottanti verità sul debito Flaiani, dice il sindaco Paolo Camiglione, afferma cose distanti dalla realtà. Una minuziosa ricostruzione è quella fatta dal gruppo consigliare di città attiva, dall'avvio del contenzioso da parte della famiglia Flaiani nel maggio 88, con il quale si chiedeva al comune il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del terreno, dove di lì a poco fu realizzato il depuratore consortile di Alba Villarosa. Richiesta di denaro che era di oltre 3 miliardi di lire. Poi il passaggio in appello, sempre con il comune contumace del 2012, con la condanna dell'ente al versamento di 555 mila euro. Successivamente il ricorso in Cassazione. Con la notifica della nuova sentenza della Corte di Appello, e siamo arrivati ai giorni nostri, siamo al 13 maggio 2016. Il comune di Martinsicuro è stato condannato al pagamento della rivalutazione degli interessi, si legge nella nota, a far data dal 2 ottobre 94 e non come richiesto dai Flaiani dal 2 ottobre 91, per un importo vicino agli 800 mila euro. Peraltro a conti fatti l'azione di difesa messa in campo da questa amministrazione, dice ancora il sindaco, ha portato ad un contenimento delle pretese dalla controparte, non già ad un suo inasprimento. Precisiamo infine che nell'ultima settimana c'è stato un tentativo di trattativa con la famiglia Flaiani, mirato alla possibilità di spalmare su due annualità la cifra dovuta, ma a tutt'oggi l'ente non ha ricevuto alcun riscontro. Questi sono fatti certificati, dice ancora il sindaco. Cercare di stravolgerli a proprio uso e consumo, gettando accuse generiche ed assolutamente prive di fondamento sull'amministrazione comunale da me rappresentata, appare assolutamente fuori luogo.